Quindi ovviamente voglio ringraziare Victor per l'attenzione che ha voluto dedicare all'Italia con questa sua visita e voglio dire che apprezzo molto, condivido le priorità che sono state individuate dalla Presidenza ungherese, a partire dalla decisione non scontata di inserire tra quelle priorità una sfida che anche io mi sono permessa molte volte di citare anche per la competenza dell'Unione Europea che è la sfida demografica, è una come voi sapete dal mio punto di vista delle precondizioni che servono a costruire un'Europa forte, un'Europa che sappia tornare a essere protagonista nel mondo, la denatalità è un problema che colpisce tutto il continente, oggi nessuna nazione europea raggiunge il cosiddetto tasso di sostituzione cioè il numero di figli per donna minimo che garantisce la continuità della popolazione se noi non affrontiamo insieme questa sfida e non riusciamo a invertire questa tendenza nel medio e nel lungo periodo i nostri sistemi economici, i nostri sistemi sociali, i nostri sistemi di welfare diventeranno insostenibili e per questo abbiamo sempre considerato che su questa materia si dovesse lavorare insieme.